Il Rotary Club Pestum Centenario ha istituito le domeniche della prevenzione. Medici specialisti saranno a disposizione ogni mese per offrire screening gratuiti e consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse. A tal proposito, in collaborazione con l'Avis Comunale di Agropoli, il Rotary Club ha organizzato per domenica 22 una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiache. Il dottor Vincenzo Paolillo effettuerà dalle ore 9 alle ore 13 visite cardiologiche gratuite presso la sede dell'Avis Comunale di Agropoli, sita in via Lombardia. La prenotazione è obbligatoria e per prendere appuntamento occorre telefonare al numero 0974 27 1750 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20.